La maturità io se cado, la roba è roba, la roba è roba 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 Finale A, G5, G6, musica bocca, pedalate a Grotto Ragazzi, questo è lo spettacolo della PNX Il Vesito 6, a Chiodo, in seguito da Polonomi Polonomi in seguito, a Chiodo Attenzione, a Deniz, Brancaleo in testa Fin coincidente, ma niente di che, Brancaleo in testa, con il 106 Mano alto per lui su tutte le boxe, il 229 è però lì, per la mia idea, a cartone Non vuole perdere, non vuole perdere Ma invece, Deniz, Brancaleo